Siamo insieme a Tino del comitato notaf terzo valico di Novi Ligure, in particolar modo Tino abita a Pozzolo. La manifestazione di oggi, insomma, qualche impressione su questa giornata? Molto partecipata? È stata molto partecipata, è stata molto bellissima. Io penso che tutti si siano aspettati la partecipazione della gente perché hanno lavorato tutti i comitati per farla riuscire. Quindi abbiamo visto un sacco di gente che è molto contenta, molto felice di questa cosa qua. Speriamo che vada avanti e che la gente capisca che qua viene fuori un grande distruzione su questa terra. Nel mentre in tutte le città coinvolte dal terzo valico i comitati stanno continuando a muoversi all'interno dei propri paesi, delle proprie cittadine, con assemblee, con incontri, addirittura a Pozzolo è nato il primo presidio a Pozzolo-Formigaro, su 11 comitati in tutta la zona, da Genova a Liguria. Quindi speriamo che ne nascono altri dove possiamo vedersi, riunire e controllare il nostro territorio. È una bella soddisfazione quindi per il comitato di Pozzolo? È una bella soddisfazione perché siamo arrivati ultimi a fare il comitato e siamo stati i primi a fare il presidio. Un in bocca al lupo allora per il futuro e per gli espropri delle prossime settimane? Sì, le prossime settimane gli espropri saranno una sorpresa penso per tutti perché avremo da lavorare, avremo da fare molto di cose. Ancora un in bocca al lupo allora, grazie mille. Grazie.